Pou Patrol, al lavoro! Niente è faticoso per un cucciolo coraggioso! Tutti a raccolta! Salva gli anatro, salva le pecore, salva i coniglietti, salva l'aquila, salva la balena! Pou Patrol, al rapporto! Pou Patrol! C'è una balena spiaggiata nella baia. Capitano Turbot ha una corda super resistente per salvare la balena, ma è caduta in acqua. Dobbiamo riportargliela! Marshall può raggiungere la balena e usare il suo cannone d'acqua per bagnarla. Zuma può immergersi sott'acqua per recuperare la corda super resistente per le balene e riportarla a Capitano Turbot. Chase può usare la sua sirena per tenere lontano gli uccelli. Bene Pou Patrol, salviamo la balena spiaggiata! Masha! Zuma! Chase! Marshall! Aiuta Marshall ad arrivare alla balena spiaggiata in modo da poter usare il suo cannone d'acqua per bagnarla. Scegli l'abilità dei cuccioli che ti potrà aiutare a proseguire. Fantastico! Raccogli tutti i biscottini che trovi per ottenere un biscottino di riconoscimento speciale quando torneremo al quartier generale. Per tirare la corda verso sinistra, muovi la levetta sinistra. Fai in fretta! Devi attraversare il passaggio prima che si chiuda. C'è un'impronta dorata qui vicino. Attimo lavoro! Ci siamo quasi! Un'impronta dorata! L'hai ottenuta! Raccogli tutte le impronte dorate che trovi. Prosegui lungo il sentiero per arrivare alla balena spiaggiata. Trova e raccogli tutti i biscottini che puoi. C'è un'impronta dorata nei dintorni. Hai ottenuto l'impronta dorata. Prova a trovarle tutte. Quale abilità dei cuccioli potresti usare? Ottimo lavoro! Continua a raccogliere i biscottini ogni volta che ne trovi uno. Gli uccelli stanno bloccando il percorso. Abbiamo bisogno di Chase per spostarli dalla strada. Scegli l'abilità dei cuccioli che potresti usare. Bene! Ora possiamo proseguire. Hai trovato un'impronta dorata. Raccogli tutte le impronte dorate che trovi. Raccogli tutti i biscottini di una missione per ottenere uno speciale biscottino di riconoscimento. Scegli quale abilità dei cuccioli usare. Fortentoso! Hai ottenuto i biscottini! Abbiamo trovato la balena! Ora Marshall può usare il suo canone ad acqua per bagnare la balena. Scegli l'abilità dei cuccioli che potresti usare. Perfetto! Direziona il flusso d'acqua muovendo la levetta sinistra. Ci siamo quasi! Prosegui! Proprio così! Ora che Marshall sta bagnando la balena, è il turno di Zuma. aiutalo a immergersi nella baia per recuperare la corda super resistente per balene e portarla a Capitan Turbot. Zuma! Proseguiamo! Scegli l'abilità dei cuccioli che ti potrà aiutare a proseguire. Ce l'hai fatta! Sto rilevando un'impronta dorata da qualche parte nei paraggi. Trova tutti i biscottini che puoi! Un'impronta dorata! L'hai ottenuta! Prova a trovarle tutte! Dobbiamo trovare la corda super resistente per balene e riportarla a Capitan Turbot. in modo da poter salvare la balena. Trova e raccogli tutti i biscottini che puoi. Per tirare la corda verso sinistra, muovi la levetta sinistra. Fai in fretta! Devi attraversare il passaggio prima che si chiuda. Attimo lavoro! Scegli l'abilità dei cuccioli che potresti usare. Pronti? Partenza! Scegli l'abilità dei cuccioli che potresti usare. Pronti? Partenza! Tuffo! Aiuta Zuma a nuotare! Stai attento ai pesci e alle aghe. Scontrarti con essi farà rallentare Zuma. Cavalca le correnti d'acqua. Ce l'hai fatta! Hai trovato un'impronta dorata. Raccogli tutti i biscottini che trovi per ottenere un biscottino di riconoscimento speciale quando torneremo al quartier generale. Perfetto! Ci va! Abbiamo aiutato Capitano Turbot a salvare la balena spiaggiata. La balena è così felice. Si va, Paw Patrol! Per aver raccolto così tanti biscottini ti sei meritato un biscottino d'oro. Hai ottenuto tutte le impronte dorate. E' sbloccato l'immagine di questa missione. Puoi vedere nuovamente le immagini selezionando la missione e poi premendo il tasto triangolo. Perfetto! 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 Perfetto!